Ciao amiche e amici, vi voglio presentare due libri scritti da James Garofalo e Fausto Avaro. Questi due libri seguono il loro primo libro, scritto insieme, che è Sogni animati, che racconta di una storia robotica vissuta in prima persona dagli autori. In questo caso sono due libri, ognuno ha scritto il suo, ha scritto il proprio, quindi Fausto Avaro ha scritto Angeli Caduti e James Garofalo ha scritto La Flotta. Il libro di Fausto Avaro, Angeli Caduti, troveremo una prefazione illustre scritta dal maestro Ivo de Palma, che non ha bisogno certo di presentazioni, la famosa voce di Pegasus, ma anche di altri personaggi. Il libro di Fausto vi presenta un Koji insanguinante, l'arrivo del disco di Actarus, e quindi queste sono le premesse della storia che andrete a leggere, quindi non vado oltre perché dovete comunque prendervi il libro. Le illustrazioni, in questo caso nel libro di Fausto Avaro, le illustrazioni sono state disegnate da un altro grande amico, un bravissimo artista, che è Marco Sarro, quindi sia la copertina che i disegni interni sono stati fatti da Marco Sarro. Il libro di James Garofalo, La Flotta, ve lo riassumo brevemente, Giacco e Fausto si ritrovano in un universo proprio dei cartoon animali. Troverete un sacco di personaggi famosi, soprattutto degli anni 80, quindi da Trader G7 a Teckhamen. Giacco deve sostituire George e diventare lui stesso Teckhamen per fronteggiare una nuova minaccia di Valdaster che vuole invadere la Terra. Una prefazione scritta da Domitilla D'Amico, che è una famosa altrice e doppiatrice. Le illustrazioni che troverete al suo interno sono state fatte da James stesso e sono delle riproduzioni o comunque fanno parte della sua collezione personale. Devo ringraziare Fausto per quanto riguarda una cosa che mi orgogliesce tantissimo perché alla fine del libro ci sono i ringraziamenti tra cui appare anche il mio nome. Quindi lo ringrazio veramente di cuore, è una cosa che non mi aspettavo e che veramente mi riempie d'orgoglio. Io ringrazio entrambi, sia Fausto e James, che ho avuto il piacere di conoscerli al secondo raduno delle cartoon cover band d'Italia all'ultimo Lucca 2015. In quel caso io gli portai la mia copia personale di Bisogni Animati e ho avuto l'onore di avere i loro autografi in prima persona. Quindi veramente li ringrazio sia per quella volta, ma li ringrazio anche per questi altri due libri che li potete trovare in catalogo sul sito Lampi di Stampa. Vi collegate al sito e lì troverete il modo per ordinarli. Ci sono varie forme di pagamento, quindi tranquillamente e comodamente vi arrivano a casa, esattamente come ho fatto io. Quindi buona lettura e ve li consiglio vivamente. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione. Un saluto a tutti dal vostro Giaffi. Ciao ciao!